L'anticiclone delle azzorre su di noi sta lentamente attenuandosi e questo darà spazio al passaggio di qualche sistema perturbato in questo momento salutare. Ma vediamo la carta del tempo prevista per sabato mattina. Notiamo degli ammassi nuvolosi. Vedete una vasta area in cui la pressione è livellata intorno ai valori medi, quindi non è bassa pressione. Comunque è sufficiente per far passare sistemi perturbati. Il primo dei quali non è ben definito, quindi si muove in un campo avverso, però sarà sufficiente ad apportare una nuvolosità molto intensa e qualche precipitazione. Soprattutto aria nuova che scalzerà l'aria ricca di materiale inquinante su di noi. Ma più in dettaglio prevediamo per domani mattina un cielo coperto con precipitazioni non intense, abbastanza diffuse. Poi gradualmente in mattinata già migliora la situazione anche se il cielo rimane in gran parte nuvoloso. Per domenica mattina ancora inizialmente qualche piccolissima pioggia residua e poi ancora cielo irregolarmente nuvoloso per nubi più o meno stratificate. Questo è un tipo di tempo che ci accompagnerà per gran parte della prossima settimana. Altro risvolto della medaglia, aria umida, quindi in un periodo che in teoria dovrebbe essere il più freddo dell'anno. Ricordo fine settimana quasi all'insegna dei giorni della Merla o subito dopo. Poi invece quest'anno non sarà confermata questa leggenda o questa statistica. Infatti le temperature previste sono addirittura 5-6 gradi sopra lo zero. Le massime potranno raggiungere anche gli 8-9 gradi. È tutto.